Non abbiamo reagito bene all'espulsione dove veramente penso che loro si sentivano un po' in copa come se qualcuno gli regalasse qualcosa però secondo tempo penso che hanno fatto quello che volevo dominando, cercando di fare gol non commettendo errori di lasciare spazi abbiamo fatto bene su questo tipo di gioco ci ha mancato sicuramente la giocata giusta in attacco perché se facciamo gol poi penso che sarebbe molto difficile per loro L'ingresso di Zampano con la difesa a quattro era per trovare più spinta sulle fasce? Sì, volevo attaccare ancora di più sulle fasce secondo me anche tecnicamente potevo fare qualcosina di più però veramente non voglio criticare i miei ragazzi perché in generale mi sembra che stanno dando veramente molto vedo anche altre squadre che sono in difficoltà bisogna anche capire i momenti, chi ha fronti, come ha fronti per cui prendiamo questo punto che va bene adesso dobbiamo preparare bene la partita contro Ascoli e guardare sempre partita per partita